Un escavatore alle prese con ciò che sembra essere fogne e liquami, il tutto poco distante dalle acque marine. A fornire e spiegare le immagini è Maramico. Alla fine, commentano dall'associazione ambientalista, quello che temevamo potesse accadere è successo. È scoppiata la fogna principale di San Leone, a pochi metri dal mare. Il problema, assicura il responsabile di Maramico, Claudio Lombardo, riguarda la condotta che trasporta a pressione tutte le acque nere dalla frazione turistica di San Leone, il rione balneare di Agrigento, al depuratore di Sant'Anna, condotta che, rompendosi, avrebbe allagato la spiaggia di Mare Nostrum. Girgenti Acque, precisa però Lombardo, è prontamente intervenuta per cercare di individuare la rottura e sostituire il tubo lesionato. Da tempo, continua la nota di Maramico, l'associazione chiede che questa arteria fognaria venga eliminata e spostata a monte, non a ridosso del litorale. Il pensiero, naturalmente, va ai possibili danni di natura ambientale che la rottura della fognatura potrebbe provocare. Non è possibile che nel 2019, conclude amaramente l'associazione ambientalista, si debba ancora vedere una condotta fognaria a pochi metri dal mare, che spesso viene pure sballottata dalla forza delle onde.